E' un silenzio che continua in perterrito, quello degli esponenti di vertice di Palazzo Campanella, dopo le statistiche poco edificanti sulle prolungate ferie estive e la mole di sedute consigliari effettuate da gennaio ad agosto e rimbalzate sui media nazionali. Un silenzio che abbiamo provato a rompere contattando tanto il presidente Nicola Irto quanto altri politici di rango del Consiglio per chiedere delucidazioni su questo ennesimo record negativo. Tentativi vani, considerato che la risposta ottenuta, seppur garbata, è stata sempre la medesima, siamo fuori sede. Via dalla Calabria dunque per trascorrere parte dei 73 giorni di ferie di cui stanno godendo i consiglieri regionali, un picco che non trova uguali nel resto d'Italia. L'ultima seduta, svoltasi a Palazzo Campanella, risale al 29 giugno scorso, poi una convocazione fissata per l'8 del 9 agosto, saltata sotto i colpi di una polemica politica rovente dopo le denunce di Orlandino Greco sulla anomalia del voto e il mancato rinnovo dell'ufficio di presidenza. Un passaggio a vuoto grave che ad oggi non ha trovato alcuna risposta istituzionale. Nel frattempo, Palazzo Campanella è assurda simbolo negativo, solo sei sedute consigliari da gennaio a fine giugno per quasi 20 ore di attività totali. Per cogliere la differenza con le altre regioni italiane, basti sapere che in Lombardia le convocazioni sono state 23, 14 in Emilia Romagna, 12 in Campania. Senza contare il Lazio, dove solo fra luglio ed agosto il Consiglio si è riunito dieci volte. Che dire, di questi tempi il silenzio è d'oro, mai però quanto i compensi percepiti nonostante il riposo prolungato. Si tornerà in aula l'11 e il 12 settembre e dai calabresi non resta che votarsi alla Madonna della Consolazione, festeggiata proprio in quei giorni a Reggio, sperando che almeno lei riesca nel miracolo di far tornare a pieno regime il Consiglio regionale. Consolato Minniti per la CNews24.